Ciao, in questo video vi presento un altro sito dopo KeepBlog e Blogger per la creazione di Blogger. Il sito di oggi è Tumblr. Allora, accediamo attraverso Tumblr.com e registriamoci con il pulsante azzurro Registrati. Inseriamo la nostra email, la password e il nostro nome utente, che comparirà ogni volta che inseriremo un nuovo posto, un nuovo articolo. Poi clicchiamo sul pulsante Inizia. Ci verrà chiesto anche di inserire all'interno del campo quanti anni abbiamo e di accettare i termini del servizio. Dopo aver inserito questi dati, clicchiamo sul pulsante Avanti. Accettiamo l'ultimo passo per la creazione e la registrazione del blog, inserendo il codice di verifica. Lo possiamo inserire nel campo sotto e poi cliccare il pulsante Fatto, che ci permetterà di creare il nostro blog. Benissimo, ci siamo registrati. Al termine della registrazione ci verrà spedita un'email, quindi andiamo a controllare il nostro indirizzo e clicchiamo sul link che compare appunto nella nostra mail. Sarà un'email simile a questa, quindi cliccando sul pulsante Verifica indirizzo email, verificheremo il nostro indirizzo email e saremo rimandati al sito Tumblr. Che ci ringrazierà e possiamo cliccare sul pulsante Vai su Tumblr per cominciare il nostro lavoro. Benissimo, come potrete vedere la nostra dashboard compare subito ed è molto molto semplice. All'interno della nostra dashboard avremo i pulsanti che ci permettono di creare post con diversi contenuti. Vedete che per ogni tipo di contenuto abbiamo un'icona e un titolo che ci permettono di accedere subito a una scheda già impostata per quello specifico contenuto. E abbiamo anche una serie di post di blog che ci potrebbero interessare. Oltre a questo, sulla destra vediamo la specifica del nostro blog. In particolare, per ora, il nostro blog è senza titolo, quindi la prima cosa che faremo sarà andare ad aggiungere il titolo. E vediamo anche il contatore che ci permette di tenere monitorato il numero dei post che andremo a pubblicare. Anche se il nostro blog è ancora senza titolo, però vi faccio notare che ha comunque già un indirizzo internet, quindi una urla. Cliccando sull'urla, che è un link sensibile, verremo rimandati infatti al nostro blog che ha già un tema di default e ha già alcune indicazioni. Come vedete c'è una barra laterale. Attraverso il nostro blog possiamo accedere alla personalizzazione oppure alla nostra dashboard. Torniamo indietro però perché guarderemo la personalizzazione attraverso la barra superiore all'interno della quale troviamo la casetta della dashboard, le e-mail che possiamo mandare e anche ricevere, il punto interrogativo che ci permette di accedere alle domande frequenti, le impostazioni e la possibilità di uscire dal nostro blog, quindi il sign out. Come vi dicevo andiamo subito a vedere le impostazioni per vedere come possiamo personalizzare il nostro blog. Clicchiamo quindi sull'icona delle impostazioni. Allora, come vedete abbiamo subito a disposizione il nostro blog, le caratteristiche del nostro blog. Sulla sinistra vedete che ci sono diverse schede di personalizzazione, account, dashboard, e-mail, apps e senza titolo, che è il nostro blog. Nelle caratteristiche a fianco quindi vedremo tutte le impostazioni che ci permettono di modificare sia l'aspetto che le caratteristiche del nostro blog. Innanzitutto vediamo che sotto al titolo, in questo caso senza titolo, avremo il pulsante che ci permette di cambiare il nostro avatar, quindi la nostra immagine. Cliccando su questo pulsante comparirà un nuovo pulsante, scegli file, che ci permette di accedere alla nostra gestione delle risorse, all'interno della quale potremo selezionare un'immagine che sarà il nostro avatar. Cliccando su apri, ovviamente l'immagine si caricherà e sarà al posto di questa testina nera. Come abbiamo visto prima, il nostro blog ha già una URL che viene data direttamente da Tumblr, con una parte già impostata, quindi .tumblr.com è già fissa. La troveremo in tutti i blog che sono creati con Tumblr, più una parte che ci viene assegnata, come vi dicevo, direttamente dal sito, ma che possiamo cambiare. In questo caso è il mio nome e cognome, ma se vogliamo fare un blog per il progetto di Nati per Creare, possiamo direttamente scrivere Nati per Creare e avremo la nostra URL personalizzata. Proseguendo nelle caratteristiche, vediamo che il nostro blog ha un tema, come abbiamo visto prima, e possiamo personalizzarlo. Oltre alla personalizzazione del tema, vedremo che da questa funzione possiamo accedere anche alla personalizzazione del blog stesso, quindi assegnare titolo e descrizione. Bene, clicchiamo sul pulsante personalizzato, scusate, prima torniamo su e salviamo con il pulsante salva, azzurro, buonissimo, e andiamo a personalizzare. Allora, come vedete, comparirà il nostro blog con alcuni contenuti che ci mostrano come potrà essere, come lo potremo vedere. Se ci piace questo tema, che è il tema di default, come vedete anche dal titolo appunto del tema, possiamo lasciarlo così e impostare le varie caratteristiche. Dopo vedremo invece come possiamo fare per cambiare anche il tema, se questo per caso non ci piace. Allora, come avete visto, abbiamo un'anteprima, una miniatura del nostro tema, all'interno della quale possiamo anche modificare l'HTML, ma non ci addentriamo in questo momento. Sotto alla miniatura avremo titolo e descrizione. Cliccando nei campi bianchi possiamo inserire quindi il titolo, inserisco sempre nato per creare, e la descrizione. Sito di documentazione del progetto. Benissimo, ricordiamoci sempre di salvare con il pulsante verde in alto, e poi proseguiamo con le caratteristiche che riguardano la grafica vera e propria. Allora, possiamo selezionare il colore di fondo, quindi il colore predominante anche del nostro blog, in questo caso è azzurro, ma cliccando sul colore, come avete visto, possiamo modificarlo, e vedete subito i risultati della modifica sia nella barra in alto che nei link. Possiamo scegliere diversi colori, in questo caso lascio verde, poi possiamo scegliere le caratteristiche del corpo, dei diversi post, scegliendo appunto il font, in questo caso è standard, io scego un altro font, Georgia, e vedremo i diversi cambiamenti. Le descrizioni sotto, invece le impostazioni che troviamo sotto il corpo del testo, la scelta del font, ci permettono di modificare la grafica e quindi l'aspetto del nostro blog. Il primo ci permette di decidere se vogliamo articoli su due colonne, oppure su una sola colonna, se vogliamo la barra superiore, se vogliamo mostrare il titolo, la descrizione, la descrizione, la foto del profilo, se vogliamo utilizzare lo scorrimento all'interno del nostro blog, se vogliamo visualizzare la colonna di destra, se vogliamo inserire il timestamp, quindi questa etichetta che ci dice quanto tempo fa abbiamo scritto un post, se vogliamo usare un font più largo per le citazioni, se vogliamo l'ombra per le immagini, mostrare i tag, le note degli articoli, oppure il copyright nella parte in basso. Tutte queste impostazioni sono già selezionate, vedete che sono tutte spuntate, basta togliere la spunta per eliminare una di queste impostazioni, quindi per mostrare una sezione, oppure no. Vedete che se clicchiamo su place timestamp, l'etichetta che vi facevo vedere prima scompare o ricompare a seconda che ci sia la spunta o meno. Andiamo a salvare le nostre impostazioni, poi sotto vediamo che è possibile anche inserire delle pagine, vedete che c'è il pulsante pagina che ci permette di aggiungere una pagina, possiamo scegliere attraverso la finestra il layout standard personalizzato, inseriamo l'url della pagina, quindi diamo noi un nome alla pagina dopo una parte della url già impostata, quindi ad esempio prova, un titolo, pagina di prova, e possiamo mostrare un link a questa pagina nella home page. Possiamo inserire poi i vari contenuti e formattare il testo secondo le nostre preferenze. andiamo poi con il pulsante verde a creare una pagina che verrà salvata e comparirà poi all'interno del nostro blog che andremo a vedere. Le impostazioni avanzate ci permettono invece di inserire il numero dei poster che andranno a comparire per ogni pagina, di decidere se aprire il link in una nuova finestra o no, di usare un layout per il telefonino, url descrittivi che quindi ci permettono di capire già dalla url qual è il titolo ad esempio del nostro post e di promuovere il tumblr, quindi di mostrare il tasto segui. Queste impostazioni sono avanzate ma non sono complicatissime, quindi possiamo vederle tranquillamente. Dopo aver finito clicchiamo su salva. Torniamo attraverso il pulsante chiudi alla nostra dashboard e accediamo al nostro sito che come vedete sulla destra ha già un nome perché l'abbiamo assegnato e anche la url è stata modificata. Andiamo a vederlo in anteprima. Vedete che c'è il nostro titolo del blog. Sulla destra abbiamo ancora la nostra foto, il nostro profilo perché abbiamo scelto di visualizzarlo. La descrizione e c'è anche la nostra pagina di prova che cliccando sul link ci comparirà. Chiudiamo il nostro sito perché torniamo alle impostazioni e in particolare alla personalizzazione dei temi perché come vi dicevo prima oltre al tema di default attraverso il pulsante temi possiamo avere la scelta dei diversi temi che ci fornisce tumblr e quindi possiamo modificare il nostro tema. Vedete che ce ne sono diversi, possiamo scegliere quello che più ci piace. Soltanto cliccando su di esso, guardando l'anteprima appunto possiamo scegliere se è un tema che ci può servire e se ci può piacere e se è il tema che ci piace di più possiamo cliccare su Utilizza e su Salva, scusate, per memorizzare le varie impostazioni. Come vedete poi ogni tema avrà delle impostazioni. Ovviamente non le guarderemo tutte, ho guardato quelle di default e le impostazioni più importanti rimangono più o meno le stesse. Quindi inseriamo sempre il titolo e la descrizione, le varie impostazioni sulla grafica che sono quelle che cambiano di più di tutte, possiamo sempre aggiungere le pagine e le avanzate rimangono le millesime. Salviamo questo per salvare il nostro tema e torniamo alla dashboard attraverso Chiudi. Continuiamo a vedere le nostre impostazioni sempre riguardo al blog. Dopo la personalizzazione dei temi possiamo scegliere se autorizzare le risposte dalle persone che seguono che è il nostro blog, autorizzare le risposte dalle persone che seguono da più di due settimane quindi queste sono le impostazioni riguardo alle risposte. possiamo permettere ai lettori di farci domande o di contribuire con i loro post eccetera, 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 eccetera non le guardiamo tutte perché diventa una cosa troppo lunga vi mando soltanto alla posta via email che ci permette di spedire delle email a questo indirizzo che viene visualizzato e mandando delle email, quindi dei post via email questi verranno pubblicati direttamente sul nostro blog senza la necessità di entrare all'interno di Tumblr o del nostro blog e di pubblicarle da lì. Dopo aver selezionato le varie caratteristiche clicchiamo su salva allora guardiamo poi le impostazioni riguardo al nostro account nella scheda account abbiamo il nostro indirizzo email che possiamo anche modificare inserendo ovviamente sempre un'email valida possiamo consentire o no alle persone di trovarmi a questo indirizzo quindi di cliccare sul nostro indirizzo e mandarci un'email possiamo modificare la password e la liqua da questa scheda possiamo anche bloccare degli utenti molesti ad esempio oppure eliminare il nostro account definitivamente clicchiamo sempre su salva andiamo alla scheda riguardante la dashboard che ci permette di scegliere alcune delle impostazioni dei blog che verranno visualizzati quindi che possono essere di nostro interesse e altre impostazioni abbiamo poi la scheda delle impostazioni e delle email che andremo a vedere subito dopo e le impostazioni riguardo alle applicazioni che però in questo caso noi non abbiamo abilitato allora come vi dicevo oltre alla dashboard che ha l'icona a forma di casetta abbiamo anche la possibilità di ricevere e di inviare mail fan mail agli utenti e a chi ha creato un blog su Tumblr e poi abbiamo le domande più frequenti che ci possiamo leggere per conoscere meglio il servizio tornando alla casetta quindi alla nostra dashboard come vi dicevo abbiamo la possibilità di creare con un solo clic i nostri blog i nostri post scusate questi post possono essere di testo fotografie citazioni link chat quindi discorsi audio e video ovviamente questo ci permetterà di inserire anche contenuto con una diversa tipologia ma le diverse icone ci permettono di accedere direttamente all'inserimento guidato di un post che ha la maggior parte del contenuto diciamo di quella tipologia particolare se dobbiamo inserire ad esempio un post di testo clicchiamo sul testo e comparirà la finestra che ci permette appunto di inserire il titolo e il testo del nostro post questo testo poi potrà essere formattato potremo aggiungere un link quindi vedete che anche se è un post di testo ha comunque la funzione link e possiamo accedere anche alla funzione che ci permette di caricare un'immagine quindi vedete che anche in questo caso le varie tipologie un po' si intersecano quindi non è limitante ma ci aiuta proprio a far comparire la finestra che ci può permettere di inserire il contenuto che va per la maggiore insomma che abbiamo intenzione di inserire finito questo possiamo aggiungere i diversi tag dove vedete che può fare l'icona dell'etichetta e poi possiamo pubblicare i post pubblicati verranno inseriti nel contatore dei nostri post oppure li potremo vedere ovviamente all'interno del nostro blog vedete che c'è il nostro post la tipologia del post che in questo caso è di testo e il testo del nostro post tornando alla dashboard vediamo l'inserimento di un'immagine semplicissima icone immagine clicchiamo e scegliamo all'interno del nostro risorso del computer l'immagine che vogliamo caricare apri possiamo inserire una descrizione quindi vedete che è molto molto simile alla scheda che abbiamo visto per l'inserimento del testo infatti possiamo inserire il link anche in questo caso e modificare l'immagine inserire una nuova inseriamo diversi tag e andiamo a pubblicare nel nostro blog compariranno i nostri due post uno di testo e uno fotografia immagini lo stesso per citazione identico per link che vediamo però perché ci permette di inserire direttamente la url che vogliamo linkare chat invece è una cosa un po' particolare un post un po' particolare perché ci permette di inserire discorsi che abbiamo ascoltato oppure conversazioni che abbiamo fatto audio ci permette di inserire un file caricandolo quindi possiamo cercare il nome della traccia ad esempio inseriamo sempre il codo possiamo cercarla all'interno di internet e quindi inserire i vari suoni i vari file audio che sono contenuti e che rispettano la ricerca che abbiamo fatto oppure caricare un file mp3 dal nostro computer oppure inserire direttamente un url esterno al quale è collegato un file mp3 e che non sappiamo che è collegato ad un file mp3 non pubblichiamo ma chiudiamo e lo stesso per quanto riguarda il video possiamo incorporare un codice embed oppure inserire una url video o caricare attraverso questo spazio un file che abbiamo all'interno del nostro computer le diverse tipologie come avete visto all'interno del nostro blog verranno indicate in una delle etichette vedete che è molto semplice inserire i diversi post che compariranno anche nell'anteprima nella nostra dashboard da qui possiamo decidere se modificarli con questi pulsanti oppure eliminarli lo stesso possiamo fare attraverso il pulsante post che ci permette di vedere tutti i nostri post e l'ultima cosa che vi faccio notare è che sotto al pulsante nati per creare il nostro blog possiamo crearne uno nuovo attraverso il pulsante crea nuovo blog direi che per tumblr è tutto di temi come vi siete trovati se li avete utilizzato e alla prossima ciao